Noi siamo contrari di principio al Gay Pride, noi non abbiamo nulla contro gli uomosessuali, assolutamente, è una scelta di tipo personale, però non capiamo per quale motivo bisogna ostentare, proprio dimostrare in maniera solenne questa cosa. Credo sia una questione di pudore, ma direi la stessa cosa anche se si trattasse di una manifestazione di eterosessuali che però magari molto colorita, come quelle che vediamo dal Gay Pride. In casa Lega Nord il Gay Pride a Treviso piace davvero poco, nessuna pregiudiziale discriminatoria, sicura l'assessore regionale Federico Canerma, col carroccio a Casugana, le cose probabilmente sarebbero andate diversamente. Con la Lega non ci sarebbe stata semplicemente perché, non perché vogliamo negare i diritti a nessuno, ma magari avremmo chiesto che tipo di manifestazione si andrà a fare, perché non vorrei che sfuggisse di mano e che appunto cominci ad avere qualche connotazione un po' assurda. Insomma, per essere molto chiari, non vorrei vedermi qualche uomo mezzo nudo che cammina tra le strade, con qualche slip un po' tirato, che sono situazioni sinceramente che sono un po' aberranti. In vista dell'appuntamento che è stato ufficialmente fissato il 18 giugno, non è escluso che a Treviso si organizzi una contromanifestazione. Diciamo che se c'è una manifestazione per dire che Treviso non è d'accordo a fare queste scenate, questo sì. Grazie.